Gli studenti di alcune classi dell'Istituto Superiore Rosina Salvo di Trapani nell'ambito di PCTO, un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, sta sviluppando un progetto di educazione al patrimonio culturale del proprio territorio per comprendere l'importanza della sua tutela e valorizzazione. Il progetto sottolinea l'innovazione digitale nel turismo, dalla ricerca delle informazioni sul web all'acquisto dei biglietti di viaggio, fino alle prenotazioni di alloggi, mezzi di trasporto o attività da svolgere a destinazione. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno incontrato in presenza il nostro collega Fabio Pace, che ha spiegato loro l'importanza di raccontare il territorio in ogni suo aspetto. La narrazione è posta alla base della promozione del territorio, raccontarlo in ogni suo aspetto, storia, tradizioni, architettura, gastronomia, curiosità, informazioni per muoversi e vivere i luoghi del divertimento. La conoscenza e la consapevolezza del territorio sono alla base della narrazione, che diventa strumento di attrazione e coinvolgimento dei turisti. Altri esperti si sono alternati nelle lezioni frontali e online del progetto Digital Tourist, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze specifiche del settore, delle politiche di intervento e dell'ambiente in cui operare, competenze per organizzare e integrare i servizi insieme alle risorse turistiche, capacità di integrare tutta la rete dei servizi, con l'organizzazione degli eventi aggregativi mirati alla promozione della destinazione turistica, capacità di combinare i valori ambientali della località con tutti i fattori che riguardano l'accoglienza, l'ospitalità e l'assistenza per i turisti, l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione multimediale per promuovere le destinazioni turistiche.